Oggi vi faccio un video che vi promettevo da mesi, anzi da quasi un anno. Parliamo di protezioni solari viso che possono essere usate anche sotto il trucco, che possono essere usate tutto l'anno, che sono comode da mettere, comode da riapplicare alcune anche sopra il trucco e soprattutto protezioni solari promosse. Ciao, io sono Laura e ho una fissa per le protezioni solari, per cui sono anni che provo e testo e ogni tanto vi parlo anche di protezioni solari. In particolare io uso la protezione solari viso tutto l'anno e quindi mi sono specializzata nel cercare delle protezioni solari che possono andare bene non solo da mettere sotto il trucco e che quindi non interferiscano in maniera negativa con il make-up che io utilizzo tutti i giorni, quindi anche quando vado in ufficio, anche quando devo essere in qualche modo impeccabile, che non lo sono mai, però tento di esserlo. A volte. Ma anche di protezioni solari che possono essere riapplicate sopra il make-up. Ci sono svariati metodi per applicare il solare sopra il make-up, il più famoso forse è quello spray, però in realtà vi svelo questo segreto e vi dico che anche le protezioni solari in crema possono essere applicate con le due accortezze e se sono adatte anche sopra il make-up. Ma partiamo dal principio. Io l'anno scorso vi ho fatto un video che è stato, diciamo, una mega recensione di solari, c'erano anche, se non mi ricordo male, solari corpo, però invece questa volta ho voglia di parlarvi, voglio parlarvi solo di protezioni solari viso. Vi parlerò in particolare, o meglio, di varie tipologie, però la maggior parte di queste provengono da un ordine su Stylevana, quindi sono protezioni solari di origine coreana o giapponese, comunque asiatica, perché c'era andata in fissa quando ho scoperto le loro capacità nel creare questo tipo di prodotti e nella texture che le protezioni solari coreane hanno in particolare, che sono molto più comode e molto più piacevoli di quelle occidentali. Io sono impazzita e ne ho volute comprare tantissime, sto ancora smaltendo quelle che ho comprato l'anno scorso. Vi preannuncio già che tutte le protezioni solari che vedrete oggi sono tutte promosse. Vi dico, in alcuni casi, alcune caratteristiche che hanno diverse l'une dalle altre e che potrebbero farvele piacere di più o di meno in base ai vostri gusti. Dicevo, ci sono anche alcune protezioni solari occidentali, sempre super promosse e sempre adatte da applicare sotto al trucco, però diciamo che la maggior parte sono dell'estremo oriente. Ripeto, secondo me loro hanno una capacità di creare questo tipo di formulazione molto, diciamo, più professionale della nostra. Si concentrano molto sulla texture e sulla piacevolezza d'uso, secondo me in una maniera corretta, perché già mettere la giusta quantità di solare, e quindi tanta, è una cosa difficile. Farlo tutto l'anno, anche quando ti devi truccare la mattina, va in velocità, eccetera, è una cosa che diventa complicatissima se avete quelle consistenze molto pastose che sono tipiche dei solari che abbiamo sempre conosciuto finora. Per cui, secondo me, la cosa di rendere piacevole e spalmabile e facilmente assorbibile la protezione solare, anche alta, perché parliamo di quasi tutte protezioni solari che sono 50 o 50 più, è sicuramente, secondo me, la mossa vincente. Ma partiamo perché già, se no, ho già perso un sacco di tempo e ne ho tantissime qui vicino a me di cui parlarvi. Alcune sono finite, altre sono in uso, però mi sento comunque di tutte di dare un parere, quindi diciamo che sono tutte comunque molto utilizzate, per cui vi do questa panoramica molto ampia, spero non troppo lunga, di prodotti. Allora, partiamo dai prodotti di cui in realtà credo di avervi già parlato sicuramente in un video dei finiti, non so se già anche l'anno scorso nel video delle protezioni solari. Queste sono i primi due solari di cui io mi sono innamorata di cosmesi coreana, e sono Isantree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel 50, SPF 50, queste sono tutte protezioni che hanno sia UVA o UVB, ampio spettro, quindi insomma vanno bene in generale, e l'Aloe Soothing Sun Cream di Coserex. Entrambe sono cremosine, questa leggermente più cremosa, questa è, anche se si chiama Sun Gel, in realtà è un metà tra una crema e un gel, quindi un pochino più leggera in quanto ha texture, anche se poi vi devo dire che io queste le ho usate entrambe facilmente, si spalmano molto velocemente, tutte quelle che vedete oggi si spalmano molto facilmente, non fanno scia bianca anche se ne mettete in grandi quantità, però devo dire che queste sono le prime due di cui io mi sono innamorata, perché non sapevo che le protezioni solari potessero essere così comode. In realtà queste due insieme alla Biore UV Watery Essence Acqua Rich, questa anche famosissima, e questa invece ha una consistenza più gelatinosa, forse questa riesco a farvela vedere, perché ce n'era un prima suglietto piccolo piccolo credo, vediamo se ci riesco, ecco sì. Vedete che, lo faccio vedere a parte che mi sono sporcata, è più gel, ecco qui forse si vede. La consistenza è proprio quella di gel. Queste secondo me vanno bene anche per pelli miste e grasse in realtà, però ve le metto in ordine di leggerezza, secondo me, di adattabilità alle pelli più o meno grasse, dove questa è quella più adatta a pelli grasse, ma va bene anche per pelli miste e secche secondo me. Questa è la media consistenza e questa è leggermente più, non voglio dire spessa, perché, ripeto, sono tutte protezioni che non sono spesse per niente. Vediamo se riesco a farvi vedere l'ultima gocciolina di prodotto. Ecco, è una cremina, ma comunque, come vedete, è una cremina che comunque si, ecco, si assorbe molto facilmente, molto velocemente, e è solo leggermente più cremosa, appunto, rispetto a queste altre due che ho testato in pratica insieme e che mi hanno fatto innamorare. Questa ha anche un finish leggermente più glow. Dopo di queste, preso il via con le protezioni solari coreane, ne ho comprate, in realtà erano già in un ordine, ma ho preso proprio coraggio e anche entusiasmo, e ne ho testate decisamente molte altre. Adesso vi dico velocemente. La prima di cui vi parlo, e che mi piace tanto quanto quelle, quindi queste forse sono tra le mie preferite, diciamo, che ho provato finora, è quella di Beauty of Joseon. Anche questa è molto famosa, si chiama Relief Sun Rise and Probiotics. Anche questa è un SPF 50+. Questa è ancora più glowy, però secondo me è molto adatta. Non dovete immaginare, quando vi dico glowy, non dovete immaginare un effetto, come dire, pesante sulla pelle. È solo che il finish, vedete, è leggermente più luminoso, anche quando si asciuga. Luminoso ma non unto. Questa è una luminosità che rimane, è una specie di glow from within, quindi una luminosità dall'interno, assolutamente naturale, assolutamente non pesante, non fastidiosa. Secondo me è una crema che adatta anche per le pelli di nuovo miste. Io l'ho regalata anche a delle mie amiche che hanno una pelle mista, forse anche più grassa della mia e loro anche si sono trovate molto bene. Si tratta sempre di protezioni che si spalmano molto velocemente, che vengono assorbite molto velocemente. L'unica cosa che dovete considerare quando parliamo di questi prodotti è il finish che vi piace di più, quindi se volete una cosa più, in qualche modo più matte, oppure se vi piace un effetto un pochino più glow. Quella in particolare assoluto che ha, secondo me, l'effetto più glow di tutti è questa qui, che si chiama Can... Il brand si chiama Can Make e lei si chiama Mermaid Skin Gel UV. Questa è quella che ha più effetto iridescente, non è ancora completamente finita. Questa, quando la spalmate, nonostante, vedete, è proprio sempre... si spalma molto bene, ma vedete che è leggermente, appunto, iridescente. È proprio, come dice il nome, una bella pelle di sirena, quindi vi dà questo effetto un po' glow, forse anche un po' innaturale, anche se poi sotto il trucco in realtà a me non dispiace, però lo dovete immaginare, appunto, piuttosto luminosa, quindi vi deve piacere quell'effetto leggermente luminoso. Ovviamente non stiamo parlando di una cosa veramente iridescente e perlata, però è chiaramente un finish un pochino più luminoso, più glowy, anche glowy in maniera meno naturale, se vogliamo, però comunque, secondo me, è un ottimo prodotto. Passiamo a delle protezioni solari che mi sono piaciute, ma che non mi hanno fatto innamorare come quelle. Allora, la prima di cui vi parlo è una delle più famose, è della linea Anessa di Shiseido, questa è una linea che è venduta solo, appunto, in Giappone, o comunque in Estremo Oriente, si chiama Perfect UV Sunscreen Skincare Milk. Questa è la più, come si dice, liquida di tutte, anche però che, sentite che dentro c'è una pallina, è davvero liquida, è proprio acquosa, vedete come scivola, anche questa si assorbe molto facilmente, non ha un finish né particolarmente matt né particolarmente luminoso. Io preferisco dei prodotti un pochino più fermi, come per la skin care, anche per i solari, preferisco una cosa che sia di consistenza un pochino più densa, gel o crema, va bene uguale, basta che non sia proprio liquido, latte liquido, perché non mi fa impazzire come consistenza, mi è scivolata tutte le parti, mi dà fastidio, però è sicuramente un'ottima crema, anche questa, di nuovo, si spama molto facilmente, funziona molto bene, quindi veramente non ci si lamenta. Un altro prodotto di cui vi parlo, che però non si legge più, è la Essence, sempre la protezione, quindi un SPF in Essence di Misha, la particolarità di questa è appunto che è in Essence, quindi è teoricamente più, ha una consistenza un pochino più, tra il siero, diciamo, e il tonico, in realtà è più una cremina, però come vedete anche questa si spalma molto bene, questa non mi dispiace, preferisco le altre, non vi so neanche dire perché, perché in realtà è un ottimo prodotto, di questa però mi piace tantissimo, ma proprio tanto tanto, l'odore, che è proprio odore di crema solare, il classico odore di crema solare proprio, di questa parte, questa cosa qui mi piace parecchio, perché in realtà io sono affezionata a quell'odore un po' floreale, tipo tiaree, mono e cocco, che hanno le creme solari, e questa ce l'ha, quindi se piace anche a voi la tipologia, non è male, l'altra di cui vi parlo è che sempre pure ha un'ottima riuscita, è questo qui di Make P.R.E.M., non so come si legga il nome del brand, Light and Refresh in Sun Essence with Full Moisture, è sempre questa tipologia qui, un pochino liquida, ma non del tutto, non tanto come quella di Ciseido, diciamo, si assorbe molto facilmente, e anche queste, tutte queste di cui vi parlo sono perfette sotto al trucco, io non vi ho detto che queste due, vi anticipavo che io le utilizzo spesso anche sopra il trucco, queste due in particolare le ho provate anche in questa maniera e le trovo molto buone da replicare sopra il trucco, come lo faccio? Tamponando. Adesso ve lo faccio vedere con questa, così testiamo subito in diretta se si può fare. Quello che faccio io è semplicemente ne metto un po', faccio un po' questo lavoro qui, e invece di spalmare, tampono. e lo faccio per tutto il viso, finché non vedo che la crema si assorbe. Ovviamente il trucco non sarà fresco come appena fatto, però onestamente io preferisco, se sono per tanto tempo sul collo la spalmo, perché così ci facciamo prima, onestamente preferisco avere un trucco un po' meno perfetto, premesso che il mio trucco non è mai perfetto, perché non è che sono una troppo attenta poi a ritoccarlo anche nella giornata, però preferisco appunto che il trucco non sia perfetto, ma avere la sicurezza di essere protetta correttamente dal sole, è una fissa come vi dicevo che io ho, però in questo modo io riesco a riapplicare la protezione sopra il trucco e devo dire che lo faccio volentieri. Ripeto, questo è un lavoro che fa fatto, la protezione affinché funzioni ogni due ore va riapplicata, quindi se voi passate una giornata fuori fuori dal al sole diciamo oppure se come me in questo momento state di fronte a una finestra con l'aria con la luce del sole che filtra in realtà avete bisogno della protezione e come vedete l'effetto è molto bello con questa tipologia di prodotti leggeri riuscite a fare anche questo lavoro è la cosa a me piace moltissimo questa come avete visto abbiamo testato insieme si può fare appunto si può fare o con le mani facendo questo lavoro oppure se vi portate appresso una spugnetta da trucco è ancora più semplice perché l'ho picchiettata in quella maniera lì chiaramente la spugnetta ne assorbe un po' di più però insomma riuscire anche forse a distribuirlo meglio che con le mani però insomma vi voglio far vedere che l'effetto non è male e poi come ho fatto vedere in un video su youtube su instagram se volete dare un ultimo tocco io mi risporco le dita con il rossetto e mi ridò il blush come sapete è una mia fissa quindi non posso non posso non usarlo e così io ho un effetto che mi piace molto allora ho finito le coreane o meglio ho finito le coreane liquide ma adesso parleremo di qualcos'altro e vi passo passo alle approvate sotto o sopra il trucco in realtà queste sopra il trucco non le ho mai provate però sotto non mi hanno mai dato problemi e sono altrettanto comode come quelle coreane ma non lo sono la prima di cui vi parlo è un prodotto di grande distribuzione ed è Garnier Ambre Solair Solair Advanced Sensitive Viso UV fluido extra leggero dovete cercare questa decidura qui 50 più e questo è effettivamente un fluido molto leggero è molto fluida vabbè non si riesce a farla vedere però per farvi capire è sulla linea di queste qui è molto liquida diciamo il che come vi dicevo prima non me la fa apprezzare fino in fondo però devo dire che per essere un prodotto di grande distribuzione è stupendo cioè va benissimo si assorbe molto facilmente forse un pelo meno facilmente delle altre che vi ho fatto vedere finora però non mi dispiace per niente e ripeto per essere un prodotto di grande distribuzione mi pare che non abbia anche un costo chissà quanto esagerato è sicuramente un prodotto da tenere in considerazione così come vi invito a tenere in considerazione anche il fluido solare viso attivo di Zoe questo è un prodotto per le diciamo persone che danno che fanno più attenzione all'inci dei prodotti quindi alla lista degli ingredienti questo è un prodotto che viene dalla cosmesi cosiddetta verde anche questo è un liquido un fluido molto liquido io questo è uno dei primi in realtà che ho testato che mi ha fatto capire che la protezione solare può essere anche comoda prima ancora delle coreane è un prodotto molto buono devo dire che a me piace tantissimo vi segnalo che non ho qui anche di cosmesi sempre occidentale la protezione al tè verde di Kula quella è stata la prima in assoluto che proprio mi ha fatto capire che la protezione solare poteva essere una cosa diversa da quella che conoscevo la protezione SPF 50 al tè verde green tea è stupenda ed è tra l'altro water resistant veramente è un prodotto meraviglioso la difficoltà di Kula è che è difficilmente irreveribile spesso va sold out e quando va sold out i rifondimenti per le profumerie che la tengono sono lunghissimi è proprio un problema di non lo so della casa produttrice americana credo sia vi segnalo che io lo compro sulla closerie salotto olfattivo che ce l'ha ha tutto il brand e il brand secondo me è ottimo anche per i solari corpo sia spray che crema veramente dei solari spaziali vi dicevo è un altro scusate un altro prodotto ottimo di cui credo di avervi parlato della versione normale diciamo nel video precedente nella mega recensione precedente è Supergoop questo lo trovate anche da Sephora quindi vi ho dato un po' tutte le tipologie di reperibilità siti solari coreani siti diciamo di cosmesi coreana siti di profumerie occidentali tipo Sephora grande distribuzione quindi supermercati eccetera profumerie di nicchia o comunque un po' luxury e green ce l'avete tutte dicevo Supergoop un prodotto che sto testando ultimamente è il glow screen questo però è SPF 30 è l'unico credo SPF 30 che trovate ed è glow allora questo dovete immaginare allora innanzitutto è leggermente colorato adesso lo faccio vedere anche se poi dà giusto veramente un uniformità un minimo di uniformità non è non si può dire che sia una cosa che dà un fondo diciamo non è un solare colorato però un minimo di uniformità la dà ed ha anche questo effetto glow pure in questo caso non del tutto non proprio naturalissimo però se vi piace quell'effetto lì secondo me non è non è male per farvi capire secondo me questo è lo stesso finish che ha sulla pelle il prodotto di Chanel quello la tinta quella con con i granelli in sospensione l'ultima che hanno fatto uscire credo l'anno scorso più o meno è l'effetto è quello lì quindi è un effetto che è diciamo sottile naturale perché sottile però non molto naturale perché molto luminoso quasi metallico però al contrario di quella che è un fondotinta e che quando è un fondotinta non mi piace questo essendo una cosa che mettete sotto al fondotinta tendenzialmente se vi truccate non mi dispiace perché mi dà quella luminosità io poi ci metto il fondotinta che mi piace a me e mi dà come se fosse di nuovo un un glow from within quindi una luminosità da dentro dopo avervi parlato delle protezioni in crema vi parlo di protezioni in stick a me era piaciuta tantissimo la protezione di Lolla up the shields che aveva fatto quando ancora il suo brand Lolla è mi strawberry feels è una creator che qui sul tubo c'è dagli albori adesso è più attiva su Instagram ha fatto uscire aveva una collaborazione con Cosmify con la sua linea che si chiama Hey Cutie adesso Hey Cutie si è trasformata in un brand indipendente l'anno scorso quando ancora due anni fa quando ancora era sotto Cosmify aveva fatto una protezione in stick che di nuovo mi ha fatto scoprire la possibilità che gli stick possano essere dei prodotti non male e devo dire che spero che Hey Cutie nella sua versione indipendente possa riproporre quello stick nel frattempo siccome non ne abbiamo non ce l'hanno ho provato altre cose allora vi segnalo questa di cui credo di avervi parlato anche l'anno scorso che è la Cure Water Splash Cooling Sunstick che è appunto uno stick rinfrescante vabbè non si vede più niente e la cosa carina di questa è che appunto quando lo mettete sentite un effetto un po' frescolino niente di drammatico però non male poi vi faccio vedere questa qui che non si legge più ma è Make P-RAM in pratica è la versione stick di questa questo è molto buono veramente lascia un tocco asciutto per niente ve lo faccio vedere per niente come non riesco più a metterlo però non è per niente unto piace anche al mio figlio che ha 4 anni quindi non è che sia un grande amante dell'avere cose unte addosso invece gli piace molto questo però non lo trovo adatto da riapplicare sopra il trucco perché anche anche il solare si può anche il solare il stick si può riutilizzare sopra il trucco con le dovute accortezze e in particolare accortezze di natura igienica per cui quando lo usate sopra il trucco direttamente sul viso quello dovete un po' pulire quello che mi ricorda di più il lo stick di Lolla quindi di la cutie lap the shields è questo qui che come quello ha una consistenza un pochino più come se fosse un gel in stick in pratica io non lo trovo particolarmente vediamo se riesco a farvelo vedere forse qui non lo trovo particolarmente pesante però come non trovo particolarmente pesante quello di Lolla in realtà però so che tante persone invece lo sentono sul viso quindi questo secondo me è la stessa idea anche questo io lo riapplico anche sopra il trucco senza problemi ripeto dovete fare attenzione perché poi lo dovete ripulire tutte le volte che lo usate scusate non vi ho detto il nome di questo si chiama Elisa Vecca è il brand Milky Piggy Sun Great Block Stick sempre SPF 50 se non ricordo male 50 più tra l'altro l'avevo comprato io perché lo volevo far usare sui miei bambini sempre e questo qui perché aveva i disegnini in realtà lo sto usando io mi ci trovo molto bene uno che vi segnalo ma non ho purtroppo perché l'avevo messo l'ho mandato a scuola della mia bambina più piccola ci hanno chiesto di portare dei solari e l'ho messo in quello è il solare è sempre il solare stick di Olika Olika ovviamente adesso io ve li sto citando poi vi metto tutti i nomi nell'info box quindi se vi interessa qualcosa potete poi riandare a cercarlo quello lì è anche carino non da rimettere sopra il trucco però da rimettere per esempio in spiaggia molto buono segnalo anche che è particolarmente piccolino e per cui anche per i visi un pochino più piccoli o per metterli in punti molto precisi ad esempio un tatuaggio migliore in mente è perfetto un altro che vi segnalo e che sempre non ho perché invece ce l'ha mio figlio sempre è quello di Anthos di nuovo vi do tante opzioni di reperibilità diverse Anthos brand di cosmesi verde green italiano molto piuttosto low cost ha fatto un solare in stick non mi dispiace è molto più duro di tutti questi che vi ho citato cioè proprio lo stick è molto più è proprio più duro quindi si spalma un pochino con minore facilità però niente di che anche quello seppf50 anche quello è uno stick che non userei sopra il trucco però sotto al trucco è in spiaggia e per i bambini piccoli anche quello è piccino per cui va anche sui visi più piccoli è perfetto l'ultima cosa che vi cito e che veramente trovo una cosa una cosa geniale che mi piace moltissimo è di Kula ritorniamo al a questo brand così un po' un po' fichetto e hanno fatto la classic face mist quindi la mist rinfrescante spf50 ottima mi piace davvero tanto io avevo provato la loro lo loro spray fissante che non mi era piaciuto per niente spf30 peraltro invece questo è 50 e non mi era piaciuto per niente perché è molto alcolico quindi a me seccava un po' la pelle e in più mi è finito praticamente subito insomma non mi faceva impazzire questo mi piace molto di più ha un odore fresco che non mi dispiace si spruzza molto facilmente chiaramente non potete fare affidamento solo su questa per avere una protezione solare perché ce ne vorrebbe troppa per per dare effettivamente l'SPF50 però io per esempio adesso che mi sono messa la protezione in maniera forse non completamente omogenea questo mi aiuta perché io faccio layering e quindi posso spruzzare mi rinfresca nel frattempo perché appunto è una mister infrescante e mi aggiunge quel po' di protezione che mi fa stare tranquilla le protezioni solari non è che si sommano quindi non è che se io ho messo lo stick 50 e poi ci metto questa sopra 50 fa 100 no però fare layering può aiutare appunto per rendere tutto il tutto un po' più omogeneo per essere sicura di aver messo la quantità giusta di solare per raggiungere la protezione dichiarata quindi per raggiungere in questo caso l'SPF50 e mi fa insomma mi aiuta a essere più sicura nella protezione però non è che l'aumenta non si sommano purtroppo credo che fosse tutto mega mega recensione alla fine non ci ho messo nemmeno così tanto forse poteva essere più veloce ma va bene fatemi sapere se ci sono delle protezioni solari tra queste che avete utilizzato e fatemi sapere come vi siete provate ma trovate o trovati ma soprattutto fatemi sapere se avete provato altro oltre a questo di veramente molto comodo da utilizzare e molto piacevole da utilizzare con questo io vi saluto se questo video vi è stato utile o lo trovate insomma interessante lasciate un like lasciate anche un commento perché è un modo per far capire all'algoritmo che apprezzate i miei video se io vi sto simpatica iscrivetevi al canale stiamo insomma cominciando ad essere un pochini e sono contenta di questo per cui se vi va di aggiungervi al gruppo io sono contentissima e se vi fa ci vediamo alla prossima ciao ciao